abbiamo imparato che nulla è impossibile che tutto ciò che facciamo dipende da noi noi siamo quello che ci è successo e quello che abbiamo deciso di essere ogni giorno ci mettiamo in gioco ci impegniamo ci alleniamo diamo sempre il massimo perché lo sport ha un sapore meraviglioso noi siamo obiettivo 3 inseguiamo il sogno olimpico la nostra meta è tokyo 20 20